Emanuel Swedenborg Emanuel Swedenborg, 1688-1772 Filosofo, mistico, teologo, medium e chiaroveggente svedese ha detto Ciò che riferisco non è il frutto di persuasione interna Racconto ciò che ho visto, ciò che vedo Procedo per osservazione e induzione Mi è stata data l'esperienza di poter penetrare in due mondi quello dello spirito e quello della materia Commento La forma di vita di Swedenborg era quella dello strumento attraverso cui i piani di esistenza superiori Trasudavano nel piano fisico con il fenomeno della chiaroveggenza Rara a quei tempi Infatti L'evoluzione media dell'umanità Aveva appena permesso la nascita del cosiddetto spiritismo L'evoluzione media dell'umanità L'evoluzione media dell'umanità L'evoluzione media dell'umanità L'evoluzione media dell'umanità